Innamorati della legalità. È questo il tema del convegno organizzato da Conf Cooperative a Forlì che ha visto l'incontro tra i ragazzi delle scuole e il magistrato Michele Corradino, autore di un libro che tratta del fenomeno della corruzione. Nel corso della giornata il magistrato ha illustrato ai giovani che cosa sia la banalizzazione della corruzione per mezzo del quale il malaffare viene percepito come una prassi e accettato come normale. Spesso il corrotto, il corruttore vengono visti come furbi, come persone furbe che fanno quello che farebbero tutti al loro posto. Ecco io credo che sia molto importante invece invertire questo processo di normalizzazione nell'immaginario collettivo e restituire corrotti, corruttori e affaristi alla loro dimensione, alla loro dimensione di ladri. Tanti ragazzi delle scuole medie superiori di Forlì presenti in sala che sono intervenuti anche attivamente al dibattito ponendo molte domande. È stato sicuramente molto piacevole poter sentire parlare direttamente da una persona che comunque è esperta di temi che di solito non si toccano oppure si legge un titolo di giornale e poi si lascia in sospeso perché si ha sempre comunque paura di parlarne. E quindi è veramente un'iniziativa lodevole quella di portare dei studenti comunque della nostra età e renderli consapevoli del fatto che le persone corrotte rubano il futuro a noi che forse ci stiamo impegnando per avere qualcosa di più rispetto ai nostri genitori.